però cosa non è finita qui come no non è finita qui abbiamo anche un'altra cosa 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 allora c'è una cosa fuori alla porta forse va a vedere andiamo che cos'è pesante ragazzi buongiorno oggi mi vedete a me sono le otto di mattina oggi è un giorno speciale perché oggi è il compleanno di marianna che fa dieci anni siamo qui perché lei adesso ancora a letto non lo so se sta dormendo perché sentivo un po di conflosenio qui guardate che abbiamo abbiamo già desiree che è pronta per fare la sorpresa a marianna vero desi andiamo facciamoli prima vedere gli amici che cosa abbiamo fatto questo quello che abbiamo preparato questa mattina per marianna guardate un po come potete vedere il tema che potrebbe essere tiktok vedete si queste sono le cose che gli servivano sì però non dirlo eh sennò ti segno abbiamo anche un pensierino eh vogliamo andare a chiamare sì sì eh andiamo dai andiamo a chiamare marianna vieni dove è marianna stiamo qui stavo a letto con dede lì mi doveva trattenere io non mi riuscivo a trattivare sì ci credo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you auguri patatina happy birthday to you allora che bello che hai visto che cosa hai visto eh grazie eh grazie abbiamo fatto la brunezza che bello sono bellezza mi piacciono wow tutti e qui ci abbiamo anche una cosa eh qui allora questo che cos'è questo è un regalino da me amore ma vediamo prima c'è un bigliettino da leggere ho visto già la cosa prima c'è un bigliettino da leggere vediamo è fatta tu sì ma prima chiudo chiudi chiudi e vedi che c'è scritto ah marianna oggi è è il tuo compleanno voglio dirti che ti voglio tanto bene mi piace molto stare con te e giocare insieme perché sei una una sorella meravigliosa amore c'è il continuo il continuo qui tanti auguri 10 sorellona facciamo vedere facciamo vedere io faccio 10 anni oggi ragazzi non so se mamma aveva detto sì sì ma si vede eh è gigantesco facciamo vedere guarda che bello un disegnino fatto dalla sorella ho visto già cos'è è una cosa che volevo tanto oh uniposca rosa e oro sì e oro grazie adoro che bello ci sono tanti a chi contenta vogliamo spingere le candeline sii ok rimettiamo la canzone tanti a te certo allora adesso andiamo a accendere le candeline spingiamo alexa riattiva tanti auguri o devi esprimere un desiderio eh e che c'è a dovevo e che c'è a dovevo avanti alexa avanti ecco ecco tanti auguri a te tanti auguri a me 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 e ti vuoi a me spermi il desiderio eh e ti vuoi a te eh bravo amore auguri grazie grazie auguri grazie però cosa non è finita qui come no non è finita qui abbiamo anche un'altra cosa 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 allora c'è una cosa fuori alla porta forse eh si infatti vai a vedere andiamo vai vai che cosa che cos'è che cos'è vai vai vieni pesante metti qua metti qua guardate guardate questa è una sorpresa da parte di me e papà ma è tutta rosa vai ehm scatola faccio così lo scatolone e questo mi sa che dobbiamo tagliare dai andiamo a prendere le fobici vai tessi sei curiosa eh che dici che dici rimarrà contenta che dici ovvio ovvio già questo è già se sto rimasta contenta anche di un'uniposta uè 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 mettilo a terra vai a terra si allora tanti palloncini 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 ho già visto un'altra cosa bella una cosa alla volta allora vediamo prima cosa quella cosa questa cosa no allora per rimanere accontenta marianna di sicuro eh e allora mi importa vedo una cosa di che consigli con l'altro ha portato troppo bella poi è un pigiamino pigiamino morbidoso 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 vai vai anche sopra ci sta ecco forza non ho provato qualcosa non è finita qua eh non è finita qua eh vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' che c'è scritta che bella di bala di bala questo giocatore peperito sto piangendo che bella è quella originale eh sì sì e si capiva quella è nuova questa qui quella qua quella nuova rossa è rimasta contenta troppo sì sì tantissimo l'ultimo regalo e c'è un ultimo regalo di bala speravamo fosse un po' più piccolo però va bene così aiuto no vabbè oddio sta qua è una rossa che avevo visto eh sì un pochetto va bene così no no non è nulla guarda hai il problema adesso credo per le chiave ma dentro non c'è nulla eh no volevo aprirla lo so volevo aprirla però volevo capire come funziona è un po' strana no ma adesso è aperta eh adesso è aperta la dovrai poi chiudere te ahhhh io scoppio voglio provare a copiare i palloni va bene ahhhh oh desiria cosa è successo ahah ti sei emozionato da tua sorella ahah provala un po' vediamo un po' ma è proprio gigante è gigantesca questa borsetta vai provala e c'è anche la cinghia qua oggi la porterò da Lele Burger ahah è un po' grandicello però va bene va bene almeno me la tengo pure quando crescerò un po' eh certo direi eh ahah che bella troppo bella grazie mommina sono tutti i regalini di preferite allora vi dico il mio regalo preferito tutti si se no lo so qual è il tuo preferito eh 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 ti devo indovinare questa ahah sono tutti stupendi qua è il tuo pezzo però qua c'è cioè è serie a c'è scritto pure ma me la devo mettere subito vai vediamo come ti sta poi questa qua è proprio quella originale che è troppo bella però quando te la metti te la dovrai mettere con questa maglietta sotto eh col pigiama ahah 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 ma ti sta perfetta ma ti sta perfetta io ho anche un'altra però è originale però senza scritto ti sta perfetta ahah oggi me la metto quando vado da nonna me la posso mettere quando vado da nonna da nonna per il tuo compleanno sì allora io la faccio vedere a mio zio perfetto ragazzi noi vi abbiamo fatto vedere questa diciamo intro perché poi questa sera ci sarà la testa con le amiche eh sì giusto? sì e lei non vede l'ora sì quindi ci vediamo stasera stasera ciao ciao